Sicurezza sul lavoro approvata, la relazione dell'indagine conoscitiva. Nelle piccole e medie aziende sono maggiori i rischi di incidenti sul lavoro. È uno dei dati che emergono dall'indagine conoscitiva approvata all'unanimità dall'Aula del Consiglio regionale durante l'ultima seduta. Come ha sottolineato Sara Zambaia, lega nell'introduzione, l'indagine ha l'obiettivo di elaborare una programmazione delle politiche regionali per migliorare la prevenzione e diffondere la cultura della sicurezza sui posti di lavoro. È stata evidenziata la necessità di istituire una commissione regionale di coordinamento per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre si intende avviare, con lo Spresal, un atto di indirizzo per azioni mutuate e preventive. Per giungere ad un testo condiviso è stato fondamentale il lavoro svolto da Walter Marin, lega per la maggioranza, e da Monica Canalis, Partito Democratico, e Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre, Unione Popolare per i gruppi di opposizione. Non parliamo di incidenti e basta, parliamo di morti, parliamo di vite che drammaticamente vengono spezzate, quindi famiglie che vengono letteralmente distrutte. La politica deve essere vigile, l'azione legislativa di chi ha competenze in materia deve essere veramente molto intensa. Essere vicini alle imprese, soprattutto le imprese più piccole, che magari fanno un po' più di fatica in autonomia a fare formazione ai loro lavoratori. Noi che siamo le istituzioni dobbiamo aiutare, accompagnare queste imprese in maniera tale che davvero nessun lavoratore, neanche straniero, resti indietro.